Credo di aver visitato qualcosa come poco più, poco meno, più di un milione di persone. Noi siamo vecchi di qualche centinaio di milioni di anni, ma i batteri sono vecchi di miliardi di anni, la sanno molto più lunga di noi. E se a un certo punto siamo arrivati a una situazione di pacifica convivenza, loro non è che l'abbiano fatto per noi, l'hanno fatto perché nel nostro organismo si trovano molto bene. Temperatura costante, umidità costante, pH costante, zucchero a volontà, e là dove non glielo diamo noi se lo tirano fuori loro, quindi loro stanno bene, ci difendono. Certo, poi ci sono anche quelli che rompono le scatole, però prima di romperle a noi, le devono rompere a loro, cioè devono attecchire l'interococco e tutte queste storie qua. Deve attecchire. E questo attecchisce solo se i nostri lattobacilli in qualche modo sono stati fatti fuori. Tu ti mangi, per dire, un bel franzetto alla McDonald's, o ti mangi delle patate fritte a go-go, o ti bevi della Coca-Cola. Non pensare mica che dentro il nostro organismo non succeda un casino, scusa. Puoi farlo una volta, ma se lo fai d'abitudine. Da di fatto che se noi rispettiamo loro, loro ci aiutano e ci difendono. Ma se li prendiamo a calci nel di dietro, prima o dopo, alla fine, ce li prendiamo noi. La gente ignora le proprie potenzialità di difesa. Sarebbe come andare in guerra con un bel mitra e quando vedi il nemico che ti spara con la fionda, tu ti dimentichi di usare il mitra. Ma che sistema è? Cretino. Spara. No? Eh, ma non sapevo che fosse un mitra. Eh, vedi, ragazzi al cavolo. Fatelo spiegare. Perché in realtà l'aggressione di questi signori è un'aggressione che segue comunque sempre le stesse modalità. Non è che un virus ti aggredisca cambiando le sue abitudini. Lui deve piantare le zampette sulla membrana della cellula. Però non è mica detto che debbano necessariamente essere nostre cellule. Guarda caso, quelli che sono più esposti sono i nostri batteri. Primo, perché sono, diciamo, unicellulari. Secondo, perché ce ne sono moltissimi. Terzo, perché il virus non fa distinzione tra una cellula nostra e una cellula loro. E quindi, avendo a che fare con una maggior quantità di cellule, comincia a prendersela con quelle. Ecco che quindi i batteri, tutto sommato, sono le prime vittime. Batteri, per intenderci, di qualunque tipo, che siano probiotici o che siano cosiddetti patogeni o che siano d'altro genere. Sta di fatto che a lui interessa il DNA e l'RNA per replicarsi. Diciamo, le migliori difese che noi possiamo mettere in atto inconsciamente sono quelle di fargli fare indigestione di nostri batteri. Il rischio più grosso di questo tipo di epidemia è che porta alla polmonite. Per cui una percentuale importante di persone viene ricoverata nelle parti di terapia intensiva. Come avviene il passaggio da un banale raffreddore alla polmonite? Bene, appunto, questo è un invito a nozze per il fatto che innanzitutto cominciamo a parlare di sovrinfezioni. Cioè capisci che tra uno streptococco metemolitico, tra un neomococco, che sono comunque dei batteri, i quali erano già dentro di noi, però venivano tenuti a bada dai nostri batteri, diciamo, di difesa, probiotici, lattobacilli, bifidobatteri, eccetera, eccetera. Se naturalmente uno ha un'alimentazione o comunque, diciamo, si trova in una situazione di acidosi metabolica, perché consuma troppi zuccheri, perché consuma alcol, perché consuma troppi grassi saturi, quindi pieno di radicali liberi, bene, questi nostri amici che dovrebbero difenderci ovviamente calano. E questi batteri responsabili poi in realtà della polmonite batterica in questo caso, perché c'è anche la polmonite virale, ma il discorso più o meno è lo stesso, perché, insomma, se attecchiscono alle cellule dell'apparato respiratorio, vuol dire che queste cellule sono indifese. E come mai sono indifese? Appunto perché anche nell'apparato respiratorio vivono i nostri probiotici, i quali sono quelli che fanno fuori i virus con i loro sistemi, diciamo, naturali. E riparliamo quindi anche qua di batteriocine, via dicendo. Insomma, sta di fatto che per poter rendere ottimali tutte le nostre reazioni, diciamo, biochimiche, ci debba essere un pH neutro-alcalino, perché nel pH acido, che in parte noi riusciamo a compensare con la nostra riserva alcalina, ma poi in realtà se noi continuiamo ad accumulare acidi, è ovvio che venga indebolito tutto il sistema anche di produzione anticorpale e via dicendo, di respirazione cellulare. Da notare poi un altro particolare, che in uno stato di acidosi metabolica, uno delle strutture, degli organi che risente maggiormente è quello vascolare. Cioè si verifica un danno a livello dell'endotelio dei capillari. E quindi si perde ossigeno, si perdono sostanze che servono al sistema nervoso, a tutte le cellule. La peggiore, diciamo, viremia o virosi, per meglio dire, è l'ignoranza. L'ignoranza è alla base di qualunque situazione drammatica. Oggi bisognerebbe approfittare proprio di questa situazione di disorientamento, di panico fino a un certo punto, per iniziare una politica di educazione sanitaria. Altrimenti vengono fuori della gente completamente impreparata, ecco l'ignoranza, che va avanti come buona meliga. Cioè basta soltanto che sentano uno che urla, che tutti si guardano terrorizzati. Il problema in questo caso da sapere è che noi possediamo delle difese naturali e anche molto valide. Ripeto, noi come, a parte gli anticorpi, ma utilizziamo l'interferone. Poi ci avvaliamo di questi, diciamo, allevamenti di probiotici che possiedono le batteriocine. Poi abbiamo un enzima che ci difende le mucose, diciamo gli occhi, le lacrime, il naso soprattutto. Si chiama l'isozima. L'isozima è un potentissimo antivirale. Ma ovviamente è quello che ci permette in ogni momento di impedire l'attecchimento di queste forme, diciamo, batteriche o comunque virali. Quindi, il problema è se tu mi mangi o comunque sei in uno stato di acidosi, guarda caso, ti si seccano le mucose, diminuisce la lacrimazione e così puoi essere in quel momento aggredito. Poi una volta che il virus si è appiccicato vanno a togliere. Non è facile. Bisogna avere, diciamo, delle, in qualche modo, delle armi. Bene, non c'è problema. Noi abbiamo soprattutto dei lattobacilli che ci difendono proprio con questi meccanismi da questa iniziale aggressione. Quindi, siccome uno dei punti d'entrata di tutte le sostanze, virus compresi, è il naso, è la mucosa nasale. D'accordo lavarsi le mani come ci dicono, però non dobbiamo neanche metterci il dito nel naso per pulire le caccole perché se facciamo così dimentichiamo che sotto le unghie abbiamo delle colture di funghi, miceti, candida, c'è di tutto e naturalmente una volta trapiantate su un bel terreno diciamo come si deve si moltiplicano e quindi aprono la strada a un'infiammazione, a un indebolimento e via dicendo. Così come la brutta abitudine di consumare delle sostanze che indeboliscono, per esempio c'hai un po' di raffreddore, ti colla al naso, bene, che cosa fai? Metti della rinazina o metti della roba per impedire lo smoccolamento? Eh, non è mica una cosa intelligente, certo che lo smoccolamento per un po' diminuisce, ma in quel momento lì è lo smoccolamento che porta via della roba e quindi tu impedisci, sarebbe come se ti scappassi di andare di corpo che in quel momento lì ti metti una supposta di legno, insomma a un certo punto i sistemi che attualmente noi abbiamo per difendersi da qualunque tipo di aggressione devono necessariamente appoggiarsi sulla implementazione di questi probiotici, oggi ne parlano tutti, sono contentissimo che lo facciano, però li possiamo utilizzare nella profilassi, capisci? Cioè a un certo punto si sa che queste virosi hanno delle abitudini stagionali, bene, noi cerchiamo di metterci in qualche modo di ripararci assumendo queste sostanze, non dimentichiamo poi l'azione della vitamina D, la vitamina D d'accordo è un binomio la D3 con l'osso, va bene, però non dimentichiamo che la vitamina D contribuisce alla attivazione e potenziamento di tutto il nostro apparato linfatico, in un caso di ipovitaminosi da D è molto facile che ci siano delle come dire delle porte di accesso che non dovrebbero esserci, quindi il problema della diffusione in un caso di non dico pandemia, però è la dimostrazione classica nella mancanza di determinate sostanze che in qualche modo rendono il virus aggressivo nel senso che trova materiale da ciucciare, da mangiare, là dove viceversa quel materiale sarebbe diciamo inutilizzabile, quindi come vedi si parla di vitamina D, si parla di latoferrina, si parla di batteriocina, si parla di risozima, si parla di interferone, è tutta roba che noi possiamo tranquillamente trovare, utilizzare per rendere difficile la vita al virus. Ora che cosa posso fare io come medico, come faccio di solito con i miei pazienti, li metto al corrente delle cose che conosco per poter far sì che loro stessi facciano qualcosa per se stessi, che non si aspettino soluzioni diciamo dall'alto. Quindi la mia raccomandazione è d'accordo laviamoci le mani, che poi anche lì avrei qualcosa da dire su questa diffusione della mucchina e questa diffusione via dicendo perché in realtà gli unici nemici dei batteri o dei virus sono i nostri batteri e quindi quando noi sulle mani su tutto il corpo abbiamo dei batteri potentissimi che ci difendono ma se tu me li ammazzi non fai altro che facilitare le cose al virus. la persona in quanto paziente o comunque individuo deve sapere che cosa deve fare non chiudersi in casa bloccare il lavoro e via dicendo cosa deve fare se io utilizzo per dire un olio essenziale per esempio prendiamo quello di timo o quello di limone oppure utilizzo del propolo io mi ricordo che nel 1995 insieme con il direttore della sezione Acqua e Ambiente dell'Università di Torino e altri avevo fatto una ricerca sull'abbattimento batterico in uno spazio contenuto tipo un'aula scolastica diffondendo dei vapori di propoli e di incenso che notoriamente hanno una potente azione antivirale e antibatterica non ti dico la procedura di questa ricerca che è stata particolarmente faticosa accendendo questi riscaldatori di resine propoli e incenso alla sera in maniera da saturare l'aria dell'aula al mattino fatto i prelievi prima dell'entrata degli alunni e dopo l'uscita in un ambiente in cui era stato diffuso ma lo sai che noi abbiamo notato un abbattimento quasi dell'80% della carica batterica ambientale e questo è riportato pubblicato sulla rivista dei biologi italiani del febbraio del 95 il che ha scatenato un interesse europeo perché questa rivista è pubblicata in tutta Europa incredibile data la semplicità e il basso costo di questo sistema allora cosa possiamo fare noi ma guarda questo lavoro è dato anche le caratteristiche di questi oli essenziali bene usiamo gli oli essenziali metti un po' di olio essenziale di limone o di timo magari sotto il naso giusto per ripararti quando vai in un ambiente oppure lo utilizzi per lavarti le mani oppure hai questi spray in cui ci siano sostanze dove ci sia la lattoferrina la vitamina D e via dicendo che li puoi usare per bonificare le prime vie aeree bene questi sono dei sistemi pratici abbastanza economici ma estremamente efficaci perché la prima domanda che credo uno in queste condizioni possa fare al proprio medico cosa posso fare per me ecco io non ho ancora sentito un autorevole parere del presidente dell'ordine dei medici forse mi sarà sfuggito però se c'è un organismo che dovrebbe prendere posizione è l'ordine dei medici perché se lasciamo che queste iniziative vengano prese sì tutto rispetto dei virologi ai politici cosa c'entrano i politici con il virus d'accordo la protezione civile mi sembra che abbia un'importanza molto elevata ma esegue diciamo mette in alto delle indicazioni delle dritte non può prendere iniziative è l'ordine dei medici visto che si parla di salute cosa fa già un cardinale nel credo che fosse nell'ottocento aveva coniato questa bella chiamiamola aforisma vulgus vult decipi ergo decipiatur il popolo vuole essere preso per i fondelli e quindi prendiamolo per i fondelli per i fondi per i fondi Grazie a tutti.